Il contenuto dell'articolo, come funziona una dieta del gruppo sanguigno, il ruolo delle leptine nell'alimentazione umana e efficienza dimagrante e cosa posso mangiare per gruppo sanguigno un gruppo cacciatori, due gruppi contadini e tre gruppi nomadi quattro gruppo nuove persone, cittadini, menù per gruppi sanguigni di un giorno benefici dietetici, rischi e controindicazioni l'idea di nutrizione basata sul gruppo sanguigno appartiene al medico americano di naturopatia, Peter J. D'Adamo. Ha proposto una dieta che aiuterà a perdere peso, a migliorare il corpo, a rallentare l'invecchiamento. Il concetto si basa sul fatto che si sono formati gruppi sanguigni durante l'evoluzione dell'umanità. Le caratteristiche della loro creazione dipendevano dai prodotti predominanti nella dieta. L'essenza del sistema proposto da D'Adamo è l'uso del cibo, che formava un tipo specifico di persone. Come funziona una dieta del gruppo sanguigno? Il medico delinea i principi della nutrizione, a seconda delle preferenze nutrizionali dei nostri antenati, nei suoi libri, che sono diventati più venduti. Il gruppo sanguigno è un sistema di globuli rossi con identità antigenica. È identificato dalla specificità di proteine carboidrati nelle membrane cellulari. Secondo il Naturopata, al fine di mantenere le caratteristiche stabilite dalla natura, si dovrebbe mangiare solo cibo adatto al gruppo sanguigno. I principi della dieta, test pre-pass per determinare con precisione il tuo gruppo, il fattore risas non ha importanza, eliminare, completamente dalla dieta alimenti non idonei, non è necessario contare le calorie, e nessuna restrizione sulla dimensione della porzione, punto e virgola a tenersi a una dieta per tutta la vita. Il ruolo delle lectine nell'alimentazione umana La teoria di D'Adamo si basa sui pericoli dei componenti proteici negli alimenti. Si chiamano lectine e hanno la capacità di legare i carboidrati sulla superficie dei globuli rossi. Questo processo porta all'adesione dei globuli rossi e alla loro precipitazione. Le lectine si trovano in grandi quantità in semi, soia e grano. Questi componenti proteici possono interrompere i processi digestivi, portare a un'eccessiva secrezione di muco nell'intestino e rallentare l'assorbimento del cibo. Peter sostiene che limitare le diete a base di lettina aiuterà a migliorare la salute, prevenire il cancro e i problemi cardiaci. C'è un punto di vista alternativo. Si basa sull'asserzione che non tutte le lectine sono dannose. Se non abusati, non sono pericolosi per il corpo e alcuni hanno persino attività antitumorale. Per saperne di più valutazione delle marche di prodotti a base di latte fermentato, quale che fir è migliore per la perdita di peso? Efficienza dimagrante La nutrizione nel gruppo sanguigno non ha una base di prove scientifiche, ma non può essere definita inefficace. I nutrizionisti affermano che la dieta su questo sistema aiuta a perdere peso. Non associano la perdita di peso alla teoria proposta da D'Adamo, poiché i cambiamenti nella dieta, in un modo o nell'altro, influenzeranno il corpo. In generale, la dieta di quattro gruppi sanguigni prevede quattro piani separati. Entrambi possono adattarsi a una persona ed essere dannosi. Non dipende dalla sua appartenenza a un tipo particolare. Cosa posso mangiare per gruppo sanguigno? Il concetto di D'Adamo si basa su fatti ben noti sull'evoluzione dell'uomo. Le preferenze alimentari si sono formate in base al metodo di estrazione degli alimenti. Nella fase di caccia e raccolta, la principale fonte di cibo era la carne. Quindi si formò un gruppo sanguigno, 0 secondo il sistema A0, che nella teoria del DR. Peter si chiama cacciatori. Dopo che la persona è stata introdotta alla coltivazione di colture orticole e di grano, è apparso il 2 gradi gruppo, A, o agricoltori. Con l'inizio di uno stile di vita nomade e l'addomesticamento dei bovini, i prodotti lattiero caseari apparvero nella dieta e si formò. Un gruppo sanguigno 3, nomadi, B, quando i globuli rossi con caratteristiche antigeniche diverse sono stati miscelati, è nato un nuovo sistema. È considerata la più giovane e la più rara. Le persone con quattro gruppi sanguigni, AB, sono più adattate alle moderne condizioni di vita e nella teoria di D'Adamo sono chiamate New People. Un gruppo cacciatori il più antico tipo di sangue si è formato durante il periodo dei mangiatori di carne, quando non c'erano altri alimenti disponibili. Per il primo gruppo sanguigno, il cibo più sano è ricco di proteine. La carne magra e il pollame costituiscono la base della dieta. Gli alimenti vietati includono carne di maiale, grano, latte, formaggi, caffè e alcolici. I pesci di fiume possono essere consumati, ma in misura limitata. Due gruppi contadini per saperne di più come perdere peso con una madre che allatta, dieta ed esercizi per l'allattamento. Le persone impegnate nella coltivazione di colture nell'antichità divennero i progenitori della tendenza vegetariana. Per il secondo gruppo sanguigno, è consentito mangiare cibi vegetali, pane, verdure, frutta e legumi. Sono ammessi vino rosso e caffè. Dai pesci puoi mangiare sgombri, carpe e aringhe. Sono vietati tutti i tipi di carne, frattaglie, funghi e latte. Si consiglia l'elaborazione minima. Tre gruppi nomadi possessori di sangue di tipo B sono più fortunati di altri. Questo gruppo è stato formato con uno stile di vita misto, quindi l'elenco dei prodotti per i suoi rappresentanti è ampio. La dieta per il sangue di tipo 3 deve essere presa tenendo conto delle caratteristiche e delle preferenze individuali. Un breve elenco di divieti include grano saraceno, mais, grano, arachidi e pollo. Possono essere facilmente sostituiti con altri prodotti a base di carne, uova e latte. Quattro gruppo nuove persone, cittadini, le persone con digestione sensibile e immunità debole hanno una natura mista di sangue. La bassa acidità gastrica è inerente a questo gruppo, quindi è necessario rifiutare carni affumicate, sottaciti e alcol. Sono ammessi frutti di mare, coniglio, tacchino, tofu, prodotti a base di latte acido a basso contenuto di grassi e verdure verdi. I formaggi e le frattaglie non sono vietati, ma non dovrebbero essere consumati spesso. Menù per gruppi sanguigni di un giorno. Viene elaborato un piano dietetico separato per i gruppi sanguigni tenendo conto delle caratteristiche del corpo. Non solo le caratteristiche antigeni che influenzano il menù giornaliero, ma anche lo stato di salute. In caso di problemi con il tratto gastrointestinale, è necessario consultare un medico sulla dieta accettabile. Per il trattamento delle malattie croniche dovrebbe astenersi dalla dieta. Per tutti i gruppi si consiglia di bere un bicchiere di acqua pulita al mattino. Un menù di esempio per un giorno per cacciatori, colazione, toast con burro di arachidi, una banana, un bicchiere di succo di pomodoro, pranzo, macedonia di uva, pere, mele, cena, manzo al forno, erbe fresche, mela, merenda, una manciata di noci, un bicchiere di succo di ciliegia, cena, cotolette di merluzzo, insalata di barbabietole, razione giornaliera per agricoltori, colazione, yogurt alla frutta, pranzo, formaggio feta, lattuga, cena, tranche di salmone al limone con pomodoro, merenda, dessert magro con ricotta, tè, cena, verdure al forno. Per saperne di più cura del tatuaggio menù di un giorno per nomadi, colazione, farina d'aveno con miele, tè alla menta, pranzo, potare con noci, bevanda allo zenzero, cena, suppa di crema di cavolo con funghi, merenda, purea di piselli, pepe verde, cena, spezzatino di agnello con verdure, pasto giornaliero per cittadini, colazione, pori di latte nel latte, tè verde, pranzo, succo di carota, arachidi, cena, julienne di tacchino, insalata di cetrioli, merenda, salsa di mele, un bicchiere di kefir, cena, tonno bollito, spezzatino con melanzane, benefici dietetici. Buona tolleranza. Il contenuto calorico e la quantità di cibo non limitano. Perdita di peso. La perdita di peso senza ulteriore sforzo è osservata solo all'inizio di una dieta. Ma in mano che il corpo si abitua, è necessario aumentare il livello di attività fisica. Effetto duraturo. La dieta è correttamente bilanciata per i principali oligoelementi, la compatibilità alimentare dei prodotti per ogni singolo gruppo. Sanguigno è buona, quindi il piano nutrizionale proposto può essere seguito a lungo. Accelerazione del metabolismo. La transizione verso una corretta alimentazione e l'introduzione di proteine nella dieta aiuta sempre ad accelerare un metabolismo lento. Miglioramento della salute. Una dieta per esami del sangue con il giusto approccio ha un effetto positivo sull'immunità e aiuta ad eliminare le tossine, rischi e controindicazioni. Carenza di alcuni nutrienti. Le restrizioni per alcuni gruppi, più per uno e due, possono portare a una mancanza di calcio, quindi durante la dieta è necessario assumere vitamine e integratori alimentari per mantenere il corpo, proteine in eccesso. Questo è più correlato al gruppo 1. Un elevato apporto proteico con consumo frequente di carne può portare a problemi cardiaci. Ci sono controindicazioni. La dieta non è adatta a donne in gravidanza e in allattamento, persone con gravi malattie croniche. Attenzione! Le informazioni presentate nell'articolo sono solo indicative. I materiali dell'articolo non richiedono un trattamento indipendente. Solo un medico qualificato può fare una diagnosi e fornire raccomandazioni terapeutiche basate sulle caratteristiche individuali di un particolare paziente.